Allora Raffaele, come ti è sembrato l'esordio della Polisportiva Savignanese di oggi? Tutto sommato è stato un buon esordio anche perché è stata la prima partita, non ci conoscevamo, molti di noi sono arrivati, siamo quasi tutti nuovi, però non ci possiamo lamentare, due buoni risultati, un 2-0, un 3-1 che comunque danno via un buon cammino per la Savignanese.